Chi è Arsana e qual è la sua storia e il suo futuro? Arsana è un gruppo italiano nato dall'idea di mio padre circa una sessantina di anni fa. L'idea nacque da l'inizio dal settore parafarmaceutico, perché Arsana si divide in due grandi settori, il settore del bambino e il settore parafarmaceutico e cosmetico. È una storia lunga, che dura ormai da 60 anni. Io insieme ai miei due fratelli rappresentiamo la seconda generazione. A noi tocca in questi anni dare continuità, da una parte ai valori e dall'altra alla crescita e alla profittabilità di questo gruppo, che ormai è un gruppo piuttosto importante, con una forte presenza in molti paesi. I marchi più importanti sono essenzialmente Chicco e Prenatal per il settore bambino, un settore molto affascinante, perché da una parte pensiamo, produciamo e distribuiamo i prodotti Chicco e dall'altra il marchio Prenatal, che rappresenta invece il braccio retail, quindi negozi, che sono sparsi non solo in Italia, ma in diversi paesi del mondo, tra cui la Spagna, il Portogallo, l'Olanda e altri paesi. Questo per quanto riguarda il settore bambino. Per quanto riguarda invece il settore parafarmaceutico e cosmetico, è una realtà molto più italiana, il marchio P-Kindolor, poi il marchio Licia, parte di deodorazione, depilazione, eccetera, e il marchio Control, dei profilattici. La storia di Arsana è importante, ma è ancora più importante la prospettiva futura di questo gruppo, che si può sintetizzare nella volontà di dare continuità a un processo di sviluppo internazionale, quindi vedere la propria presenza, consolidarsi e svilupparsi in molti paesi. In molti paesi, ma non solamente i soliti paesi emergenti, che tra l'altro ormai sono anche fortemente emersi, come la Cina, il Brasile, la Russia e l'India, dove abbiamo una presenza diretta ormai da diversi anni, ma proprio di dare la possibilità a tutte le categorie dell'area bambino di avere una presenza all'interno di centinaia di milioni di famiglie che possano utilizzare i nostri prodotti. Che significato ha la parola innovazione per Arsana? Innovazione? Diciamo, per noi il prodotto è sempre stato un fattore critico di successo, molto molto importante. Ogni anno investiamo molto in attività di ricerca e sviluppo, che non va immaginata come un'attività stratta di ricercatori in camice bianco, ma di persone più o meno giovani che dedicano molto tempo all'osservazione di quello che accade al nostro, tra virgolette, consumatore finale, che a me piace chiamare mamma e papà. In questo caso parlo in particolare del settore bambino. Quindi l'innovazione per noi parte innanzitutto dal prodotto, dalla capacità di capire i bisogni. Dietro la parola innovazione c'è anche la passione, ma noi ci occupiamo di un settore, la crescita di un bambino nei suoi primi anni, che trova quasi una passione naturale. Quindi innovazione significa trovare soluzioni che aiutino le mamme e i papà a crescere i loro figli con maggiore comfort, con minori ansie e con maggiori soddisfazioni sostanzialmente. Quanto contano le risorse umane in Arzana? Innanzitutto non mi piace parlare di risorse umane, mi piace parlare di persone. Ma credo che qualsiasi persona nella mia posizione in questo momento chiaramente risponde che sono molto importanti. Però non è retorica, è realtà. E non parlo solo di Arzana. In generale credo fortemente che le persone fanno la differenza. Le persone sono importanti. Se sono giovani è forse da un certo punto di vista bene, è importante, è soprattutto importante secondo me che ci sia un buon mix all'interno di un'organizzazione fatta di persone, come è un'azienda, un buon mix di persone che hanno età, sesso e esperienze quindi diverse. Questo garantisce un buon passaggio di esperienza da una parte e garantisce dall'altro una freschezza e quindi maggiore probabilmente curiosità, passione nell'affrontare le sfide essenzialmente. Parliamo di occupazione giovanile. Come vede la situazione attuale e quali possono essere le prospettive per il futuro? Se usciamo da Arzana e guardiamo un attimo al mondo italiano, alla situazione italiana, la situazione è, devo dire, molto brutta, molto triste. Dall'altra parte però ci sono dei segnali interessanti, soprattutto riguardano le aziende che non solo si occupano del mercato italiano, ma che si occupano dei mercati che stanno crescendo. In questo io sono piuttosto positivo. Sono piuttosto positivo. Molto spesso quello che noto nei giovani è una eccessiva, e probabilmente era anche il mio difetto, se vogliamo chiamarlo difetto di quando ero giovane, eccessiva voglia di bruciare le tappe velocemente e magari di essere un po', diciamo, troppo selettivi nell'ambizione di voler trovare il lavoro perfetto o il lavoro che corrisponde di più alle proprie aspettative di quando si è ancora all'università. Una voglia di mettersi comunque in gioco e di entrare in qualche modo nel mondo del lavoro secondo me aiuta poi a trovare la strada che dà più soddisfazione, magari anche facendo qualche cambio ben pianificato. Si tiene che fino ad oggi i giovani abbiano avuto modo di mettersi in gioco ed esprimere il loro talento o si può migliorare? Ma si può, anzi si può e si deve migliorare. Questo è uno degli obiettivi che ci siamo dati in questi ultimi anni. È importante che dare un'opportunità ai giovani non sia all'interno dell'azienda solo uno slogan ma che sia effettivamente una realtà una realtà diciamo che si vive tutti i giorni. Facciamo un paio di volte all'anno degli incontri per capire da parte dei giovani quali sono i loro sentimenti in relazione alla capacità di Arsana di dare loro diciamo un buon livello di soddisfazione di coinvolgimento. A volte troviamo dei risultati positivi a volte non positivi e questi sono sicuramente di stimolo per appunto migliorarsi. È un lavoro continuo e anche un cambiamento di cultura. Io mi ricordo fino a una ventina di anni fa forse un po' di più che l'idea diciamo di Arsana e non solo era che diventavi dirigente dopo i 40 anni. E mi ricordo che quando facevamo dei dirigenti intorno ai 30 sembrava quasi una cosa scandalosa. Oggi l'età se vogliamo non solo conta meno ma la gioventù è una è una tu in più. Ecco sta però anche ai giovani sfruttarlo e interpretarlo nel modo giusto. Arsana cosa cercano i giovani e quali sono le caratteristiche che determinano la selezione del candidato? Sono cambiate rispetto al passato? Ma se sono cambiate rispetto al passato questo non lo so. Indubbiamente alcune caratteristiche diciamo che sono fondamentali sono l'intraprendenza la volontà di mettersi in gioco al contempo però la capacità di interpretare la cultura aziendale i valori aziendali e di fittare bene con l'organizzazione. In sostanza non cerchiamo spesso dei grandi talenti cioè non cerchiamo diciamo i maradona ma cerchiamo persone che abbiano curiosità passione che trovino nel loro lavoro di tutti i giorni soprattutto la capacità di avere buone idee ma di saperle diciamo mettere in gioco all'interno di una squadra e questo è importante perché spesso le buone idee rimangono buone idee se rimangono dei singoli perché non si trasformano non riescono a trasformarsi in progetti concreti e noi viviamo il nostro successo si basa essenzialmente su idee che sanno poi realizzarsi in progetti concreti. Una bella idea in cambio di una bella opportunità cosa ne pensa del meccanismo di Just Knock che permette ai giovani di inviarvi idee e progetti positamente pensati per voi? Quando vi ho incontrati la cosa che mi ha colpito di più è appunto che l'azienda ha la possibilità non di selezionare una persona perché sembra capace o ha degli studi particolarmente di successo o ha un curriculum ben scritto ma l'azienda ha la possibilità a prescindere dalla persona che non conosce di valutare il progetto cioè di valutare l'idea e probabilmente anche la sua progettualità in fasi diverse e quindi è molto interessante se c'è un progetto che è interessante per l'azienda non ci sono particolari secondo me ragioni affinché chi ha avuto questa idea non possa non solo partecipare ma essere magari il protagonista di un gruppo più importante di persone che rendono questa sua idea realizzabile e questo l'ho trovato interessante l'ho trovato molto affine alla nostra cultura del fare cioè molto pragmatico molto pratico molto anche molto semplice devo dire Giosnac è lieto di avere alzana tra le aziende partner che consiglio vuole dare ai giovani che vogliono inviarvi un'idea a un progetto di essere sintetici molto chiari molto semplici molto semplici e di avere anche magari un pizzico di fortuna perché senza la fortuna è estremamente difficile riuscire nella vita quindi auguro a tutti di avere non solo buone idee ma di saperle trasferire a noi e a tutte le altre aziende che avranno l'opportunità di valutare i vostri progetti di fare bene sostanzialmente